Salve, grazie per l'invito e un saluto a tutti. Allora, grazie a te Pierpaolo di aver accolto il nostro invito, innanzitutto da dove chiami? Parlaci un po' del tuo territorio e in particolare del tuo progetto di artigianato alimentare. Sì, allora io chiamo da Scolipiceno, una cittadina delle Marche, al confine tra Marche e Abruzzo, ma sono collocati nelle Marche. Diciamo che la nostra attività è stata avviata da mio padre, quindi questa è la seconda generazione, che per passione andava nei boschi a cercare funghi e tartufi, e da piccolino mi portava con lui appunto la ricerca di diversi funghi e di questi preziosi frutti della natura e quindi è iniziata all'incirca 30 anni fa la passione. Ah, ok. Quindi una passione che ti è stata trasmessa a Pierpaolo. Sì, poi diciamo di sì, poi in realtà diciamo io l'ho sviluppata dal prodotto fresco, nel 2001 abbiamo realizzato proprio il marchio Bosco d'Oro, l'azienda Bosco d'Oro, e abbiamo iniziato a fare tutte le lavorazioni, quindi oltre al prodotto fresco, al tartufo fresco, abbiamo creato una serie di prodotti a basse di tartufo, di specialità a basse di tartufo, ampliato la gamma e quindi abbiamo creato una serie di condimenti pronti all'uso per condire primi piatti, carni pregiate o crostini, antipasti in genere. Quindi siete scesi un po' più nel dettaglio dell'alimentare, facendo anche un po' di trasformazione. Ricordiamo Bosco d'Oro è la vostra attività, come possiamo trovarvi Pierpaolo, come possiamo anche diciamo spulciare un po' tutti i prodotti? Sì, noi serviamo prevalentemente la ristorazione e il negozio specializzato, e il dettaglio specializzato che in questo momento sta un po' subendo quello che è il termo dovuto a questa situazione complicata. Certo. Siamo anche operativi online ovviamente, abbiamo un sito dove è possibile fare degli acquisti diretti, quindi si può fare un ordine direttamente dal sito o mandare una mail all'azienda o fare un ordine telefonico il quale verrà preso in carico dalla produzione, verrà messo in produzione e poi spedito e consegnato nel cielo di pochi giorni. Perfetto, allora a questo proposito Pierpaolo andiamo a dare il sito, il sito web www.boscodoroshop.it e la pagina Facebook Bosco d'Oro, sul quale potete comunque contattare Pierpaolo Staffolani, visionare i suoi prodotti.